Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Con la puntata di oggi iniziamo la prima pillola del 2021, d'altronde il primo gennaio, non può essere diversamente e lo facciamo con una storia tutta italiana. Qualcuno di voi mi ha detto che racconto troppe poche storie liete, beh questa non lo è ve lo dico subito, anzi è una storia che affonda le sue radici in uno dei momenti più oscuri della storia recente italiana, cioè quei 24 e poco più mesi tra 1943 e la metà del 1945 in cui l'Italia fu letteralmente attraversata da parte a parte della penisola della seconda guerra mondiale e fu devastata dai combattimenti, dai bombardamenti, ma soprattutto da una guerra civile che spaccò l'Italia in due, da una parte i fascisti, i repubblicani, i repubblichini, chiamateli come volete, dall'altra gli antifascisti, i partigiani in tutte le loro forme, in mezzo a chi cercava semplicemente di sopravvivere. E in questa guerra civile che vide uomini contro uomini schierati uno da una parte e uno dall'altra, chi per un ideale e chi per l'altro, molti ne approfittarono. Ne approfittarono per dare sfogo ai loro istinti più bassi e a mio parere mascherandosi dietro ad un ideale, semplicemente sfogarli su un avversario o semplicemente sulla popolazione inerme. La storia di oggi che vi vado a raccontare non ve la racconto da solo, la racconto grazie a Ilaria, che ancora una volta ha preparato una pillola molto particolare, secondo me molto bella, con un argomento che merita di essere discusso, quale che sia la propria parte politica e che quindi ringrazio tantissimo. È una storia che ha molti protagonisti. Innanzitutto una casa, perché in realtà questa storia è iniziata come la storia di una casa, cioè Villa Fossati, a Milano. Una casa che sorge sui resti di un'antica chiesa, pensate addirittura del IX secolo, che venne ricostruita all'inizio del 1900 in stile rinascimentale e divenne appunto Villa Fossati. Che però durante la guerra per i milanesi cambia nome e dal nome della famiglia iniziò a essere chiamata Villa Triste. È la storia di un uomo che diventerà un grande regista, Lucchino Visconti. È la storia di un grande politico, antifascista, partigiano, che diventerà un presidente, un grande presidente, cioè Sandro Pertini. È la storia di due attori che grandi negli anni 40 lo erano già, cioè Osvaldo Valenti e la sua compagna di vita e di recitazione, Luisa Ferida. Ed è la storia di uno di questi uomini che, come vi ho detto prima, sfruttarono la guerra civile per dare sfogo alla propria, posso dirlo, bestialità. Un uomo il cui nome, che poi divenne anche il nome della sua banda, per quasi un anno, prima a Roma e poi a Milano, divenne per molti sinonimo di paura, di torture, di violenza. L'uomo di cui vi parlo oggi e che ha incontrato la vita di tutti gli altri personaggi si chiamava Pietro Cocca. Cocca nacque a Benevento nel 1918. Il padre era tedesco, la madre italiana, cresciuto tra Benevento e Roma, dove poi studiò giurisprudenza senza laurearsi, Cocca nel 1938 entrò nell'esercito, divenendone peraltro ben presto ufficiale dei gradatieri di Sardegna. In realtà nel 1940 venne messo a riposo e venne richiamato alle armi solamente all'inizio del 1943, nella primavera del 1943. Tutto questo però appartiene alla sua storia. Nella nostra storia, invece, Cocca entra l'8 settembre del 1943, cioè un giorno che, come tutti voi sapete, è il giorno dell'armistizio, è il giorno della fuga del re, è il giorno in cui letteralmente l'Italia si spacca in due. Da una parte chi appoggia il nuovo governo Mussolini, che nascerà nel nord della Repubblica Sociale Italiana e i tedeschi, dall'altra chi invece appoggia il re, o semplicemente si schiera contro i fascisti. All'interno di questa situazione Cocca si trovava a Livorno. Perché Livorno? Beh, perché i gradatieri di Sardegna erano in attesa di imbarcarsi per la Sardegna, che probabilmente avrebbero dovuto difendere qualora gli alleati fossero sbarcati. Cocca si trova lì e, a differenza di alcuni suoi compagni che fuggono, tornando alle loro case, di alcuni che invece si schierano con il nuovo governo e fuggono verso sud, altri che invece si uniscono in partigiani, Cocca, come altri suoi compagni, viene invece affascinato dalla nuova Repubblica Mussoliniana. Decide di iscriversi a questo nuovo partito repubblicano fascista e decide di voler dare una mano al nuovo governo. Deciso a voler dar seguito alla sua convinzione, si spostò a Firenze. Perché Firenze? Beh, perché all'epoca a Firenze agiva il cosiddetto Reparto Speciale di Sicurezza, che più comunemente veniva chiamata la Banda Carità. Era un gruppo di uomini, di varia estrazioni, che facevano capo a un uomo chiamato Mario Carità, che vedete adesso nelle immagini. Che cos'era questa Banda Carità? Beh, formalmente era un gruppo di, diciamo, parapolizia, che dipendeva dalla questura, ma che non era composto da poliziotti, ma era composto da uomini provenienti da vari gruppi sociali, tra l'altro alcuni anche dalla malavita, i quali si erano riuniti attorno a Mario Carità e agivano al confine tra la legge e la mancanza di legge, per dire la breve, l'illegalità. Perché? Beh, erano un gruppo che si occupava di snidare, torturare e molto spesso uccidere coloro che si opponevano al fascismo, a cominciare da coloro che venivano accusati di aver tradito l'8 settembre e di essersi schierati dalla parte di Badoglio. La Banda Carità, come quelle che si formeranno poi successivamente, erano ampiamente tollerate in questa situazione, perché pur agendo al di fuori del codice penale, del codice civile, anche del codice di guerra, erano considerati un male necessario per contrastare coloro che si opponevano al fascismo. Koch arrivò a Firenze dove operava questa banda, che all'epoca era una delle più famose in Italia. Notate peraltro che, come detto, il nome vero era Reparto Speciale di Sicurezza, ma venire comunemente chiamato banda proprio per i suoi metodi, che la faceva assomigliare più a una banda di malavitosi piuttosto che a un vero reparto di polizia. Il nostro Koch molto rapidamente scala posizioni all'interno di questo gruppo, soprattutto quando riesce a condurre personalmente la cattura di uno degli esponenti più importanti tra coloro, comandanti più importanti tra coloro che si erano schierati contro il fascismo, il generale Caracciolo che guidando la Quinta Armata aveva cercato di difendere Firenze dall'arrivo dei nazisti. I metodi di Koch gli valgono ben presto dei riconoscimenti. Riconoscimento da parte di Mussolini, che pare lo apprezzasse molto, ma soprattutto riconoscimento da parte di quegli invasori tedeschi che vedevano nei metodi di Koch la ripetizione degli stessi metodi utilizzati dalle SS e dalla Gestapo tra le loro fila. Questa serie di successi valse a Koch, diciamo una promozione. Gli venne permesso di creare una propria banda, che chiamerà Reparto Speciale di Polizia Repubblicana, ma che sarà chiamato da adesso e per sempre la Banda Koch. La Banda Koch, che si spostò molto presto a Roma, per ovviamente non pestarsi i piedi con quella guidata da Carità, ben presto ha raccolso un grandissimo numero di membri, giungendo ad avere ben 70 membri al suo interno, di estrazione varia, alcuni peraltro provenienti dalla stessa Banda Carità che avevano seguito Koch, poi c'erano giornalisti, avvocati, membri della Polizia, che molto spesso facevano da collegamento con la Questura, c'era addirittura un ex frate, il Defonso Troia, e poi c'erano delle donne, come la Cimini, o Daisy, o Dusnella Marchi, che esattamente come i loro compagni uomini partecipavano alle violenze sui catturati. Una volta che si trasferirono a Roma, entrarono in stretto contatto con le SS che già operavano a Roma, in particolare con quelle che operavano in Via Tasso, dalla sede di Via Tasso, dove peraltro per un po' di tempo stazionò anche la stessa Banda Koch, e quelle guidate da Ernst Koeppler. Lo vedete qui, criminale di guerra nazista, condannato e per molto tempo detenuto in Italia per le fosserdiatine. I metodi delle SS e della Banda Koch erano molto simili, tanto che Koeppler più volte difese Koch, quando anche i suoi superiori avrebbero voluto farlo sparire, e fu assolutamente l'uomo che gli fornì denaro, armi e aiuto per fare quello che faceva. E cosa faceva Koch? Beh, letteralmente terrorizzava Roma. E parlo di Roma in generale, perché la sua Banda non aveva nessuna remora a catturare, torturare e talvolta uccidere chiunque fosse accusato di essere anche solo un tiepido esponente del fascismo. Tanto che si diceva che Koch avesse indagato su praticamente qualunque gerarca vicino a Mussolini. L'attività però più spiccia era un'altra, ed era quello di snidare e catturare i veri oppositori, che fossero partigiani, che fossero renitenti alla leva, che fossero ex comandanti dell'esercito regio, che non si erano schierati con la Repubblica, o che fossero ebrei, perché più volte vennero fatte delle retate per catturare ebrei. In particolare la Banda Koch divenne famosa per una serie di attacchi portati contro delle chiese. Perché le chiese? Beh, alcune chiese di Roma non fanno parte della Repubblica Italiana, e quindi non facevano parte del Regno d'Italia, non facevano parte della Repubblica Sociale, ma fanno parte, come territorio o come extraterritoriali, di città del Vaticano. Per questo erano ben presto diventate un luogo di protezione, in cui esponenti antifascisti si erano rifugiati in attesa di trovare un modo per fuggire verso sud. Ovviamente su queste chiese era molto difficile andare a intervenire, perché si voleva evitare di creare uno scontro, un precedente, con il Papa. Ma se non potevano agire direttamente i tedeschi, non potevano agire direttamente i repubblicani, ecco che questa banda, che agiva al di fuori della legalità, poteva fare bello il cattivo tempo. E così ben presto Koch divenne famoso per una serie di attacchi, arresti, catture, uccisioni, proprio all'interno di queste chiese. Ben presto la nomea gli valse del potere, e man mano iniziarono ad aumentare sempre di più i racconti sui metodi terribili utilizzati dalla banda. Uno dei racconti più comunemente noti, ma ne potete trovare una marea anche su internet, cercateci, sono proprio le testimonianze di chi riuscì a sopravvivere, che racconta le terribili sevizi a cui vennero sottoposti. Ma uno dei più famosi ad essere catturato e poi a sopravvivere alla banda Koch, si chiamava Lucchino Visconti. Lucchino Visconti, immagino lo sappiate, è uno dei registi più famosi del cinema italiano, tra gli altri registi, ad esempio, del Gattopardo. Ebbene, era un esponente antifascista, questo è vero. Nella sua... all'epoca faceva già parte della vita culturale romana e aveva più volte protetto nella sua casa esponenti antifascisti in fuga dalle autorità. Alla fine lui stesso era stato catturato ed era stato torturato per cinque giorni affinché rivelasse dove aveva nascosto quegli uomini. La tortura era più che altro psicologica, anche perché forse si temeva a provocare dei danni a un uomo così conosciuto. Per cinque giorni, infatti, gli venne fatto credere che era stato condannato a morte. Venne sbattuto in una cella e per otto volte ne venne tratto dicendogli che stava per essere portato davanti a Plutone d'esecuzione. Ovviamente era finto, ovviamente era una simulazione che però non poteva che farlo letteralmente impazzire. Alla fine, grazie all'intercessione di un'attrice, Lucchino Visconti venne liberato, ma questa fortuna non fu la stessa che ebbero molti altri, che invece vennero catturati, torturati anche fisicamente e molto spesso alla fine uccisi, oppure sbattuti in galera e molti di loro moriranno poi proprio nel ciglio delle fosse adiative. Chi sopravvisse, come dicevo prima, ha raccontato quali fossero le sevizie a cui venivano sottoposti. E parliamo di sevizie brutali, ma che purtroppo vediamo ogni volta che si parla di argomenti del genere, anche senza andare tanto lontani del tempo, pensate un po' alla prigione di Abu Ghraib in Iraq. Tra queste sevizie c'erano ovviamente le più semplici, le violenze, schiaffi, pugni, i torturati venivano lanciati contro un muro affinché rompessero ossa, avvolti, sanguinassero. Oppure venivano costretti a fare quelle che venivano chiamate delle passeggiate. Venivano spogliati, costretti a camminare sotto l'acqua ghiacciata e poi ad attraversare un lungo corridoio in cui da una parte e dall'altra c'erano degli uomini armati di bastone che mentre loro passavano li bastonavano ferocemente. E magari si davano anche il cambio, come viene raccontato, perché non fossero troppo stanchi e i loro colpi troppo deboli. E poi sevizie più elaborate. Alcuni prigionieri vennero appesi, ad altri vennero strappate le unghie affinché confessassero. Alcuni esponenti, alcuni prigionieri, sia uomini che donne, vennero torturati sessualmente con dei bastoni di legno. Altri venivano invece spinti sotto delle docce bollenti affinché si ustionassero. Altri ancora venivano torturati con l'elettricità. Insomma, una serie di sevizie terribili che valsero una nomea, letteralmente di paura, alla banda Koch. Il regno del terrore di Koch su Roma terminò nel giugno del 44, cioè quando gli alleati entreranno nella città eterna. Lui, insieme a gran parte della sua banda, riuscì a fuggire verso nord. Alcuni in realtà non ce la fecero, vennero catturati, ma lui sì, e si installò a Milano proprio in quella villa Fossati di cui vi ho parlato nell'introduzione. La villa, che era una villa a tutti gli effetti, abbandonata dai suoi padroni, venne trasformata in un vero e proprio fortilizio, circondata da filo spinato, da mitragliatrici, e divenne la nuova base operativa della banda, che riprese a fare esattamente le stesse cose che faceva Roma. Solo, secondo quanto viene raccontato da alcuni, con ancora più determinazione, con ancora più ferocia. Qui la banda guadagnò due nuovi esponenti. Si trattava di due attori molto famosi, Osvaldo Valenti e Luisa Ferida. I due non solo erano attori famosi, non solo recitavano insieme sul sette, ma erano anche compagni nella vita. Valenti, in particolare, di due era sicuramente il più famoso, aveva fatto numerosi film negli anni trenta, aveva continuato a girare fino al 1943, e una volta che Mussolini era caduto, c'era stato l'8 settembre, aveva deciso, insieme alla compagna, di rifiutare un ingaggio in Spagna per recarsi al nord. Qui, in Veneto, era nato il cosiddetto cinevillaggio, che cercava di creare una nuova cinecittà nel nord Italia, ma ben presto, dopo un solo film, erano finiti i fondi, erano finite le maestranze, e così il nostro Valenti si era trovato senza un lavoro. Dato che era un fervente fascista, si era unito alla decima mass, aveva preso parte ad alcune operazioni contro i partigiani, aveva partecipato a un'operazione di contrabbando verso la Svizzera, che aveva fornito denaro fresco alla decima e al regime, e alla fine era stato mandato, probabilmente dallo stesso Borghese, a fare un collegamento con la banda Koch. Perché? Beh, su questo non c'è comunione e divisione da parte degli storici. Secondo alcune fonti, infatti il motivo era proprio il desiderio da parte della decima di avere un collegamento con la banda Koch, ma soprattutto di controllarla, affinché si potesse capire che cosa stesse facendo, anche perché pare che la banda non avesse smesso di controllare gli esponenti fascisti, anzi, avesse iniziato a controllare anche quelli più vicini a Mussolini, per cercare delle crepe. Secondo altri, invece, Valenti si avvicinò alla banda perché era un tossicodipendente e pare che lo stesso Koch gli fornisse, in cambio del suo aiuto, dei carichi di cocaina, che poi Valenti in parte utilizzava, in parte smerciava, che erano stati ottenuti tramite delle perquisizioni, delle requisizioni proprio dalla banda e che poi venivano venduti per ottenere del denaro. Se Valenti, e su questo le fonti sono assolutamente sicure, partecipò anche ad azioni della banda, partecipò alle torture, partecipò agli assassini, ci sono molti più dubbi sul vero operato della sua compagna, Luisa Ferida. Infatti, alcune fonti, tra cui Natalia Ginzburg, dicono che in effetti la stessa Ferida partecipò alle violenze, ma secondo altre fonti, in realtà non era Ferida a partecipare, ma erano, vi ricordate, la Cimini e la Marchi, che molto spesso si facevano spacciare, principalmente la Marchi che ci assomigliava, proprio per la Ferida, sfruttando la penombra, sfruttando la stanchezza dei prigionieri torturati, si facevano passare per la Ferida e questo avrebbe tratto in inganno coloro che sopravvivevano alle violenze. Quale che fosse la realtà, i due entrarono comunque nell'orbita della banda, che così come aveva fatto a Roma, iniziò a terrorizzare anche Milano. A Milano però ebbe vita breve. Al nord, infatti, spadroneggiava un altro gruppo, le Brigate Ettore Muti, che ben presto entrarono in scontro proprio con la banda Koch. Lo scontro però si concretizzò solamente nel settembre del 1944. Il 20 settembre, all'incirca, su questo non c'è concordanza, la banda infatti venne a sapere da un uomo che avevano catturato e torturato, di un grosso carico di benzina nascosto in una cisterna. All'epoca la benzina non era così facile da procurare anche per gli stessi fascisti e la banda aveva deciso di impossessarsene. Su quello stesso carico però avevano messo gli occhi anche quelli della Muti e la cosa scatenò un piccolo scontro a fuoco. Il risultato fu che le Brigate Ettore Muti chiesero la testa di Koch e a quanto pare Mussolini ormai stanco dei metodi della banda e forse anche preoccupato per tutti i controlli che facevano questi ultimi decise di concedergliela. La Brigata Ettore Muti attaccarono Villa Fossati Villa Triste catturarono Koch catturarono altri esponenti della loro banda e li portarono a San Vittore. I tedeschi non furono ovviamente contenti della sua cattura ma decisero alla fine di lasciare queste beghe agli italiani ma quando il 25 aprile del 45 lasciarono definitivamente Milano decisero di far liberare da San Vittore lo stesso Koch il quale cercò di darsi alla macchia. La sua fuga però durò pochissimo si rifugiò a Firenze da una sua vecchia fiamma ma quando questa venne catturata il primo di giugno del 1945 si consegnò spontaneamente alle autorità. Il processo fu appena tre giorni dopo trasferito a Roma nell'aula della Sapienza in un brevissimo processo il 4 giugno del 45 venne condannato a morte. A parlare contro di lui furono in pochi ma perché pochi bastarono il suo nome era ampiamente conosciuto tra cui lo stesso Visconti che raccontò delle violenze e fu uno dei principali accusatori. Il giorno dopo il 5 giugno 1945 Koch venne fucilato. Era talmente conosciuto che il timore dell'autorità era che qualcuno potesse non credere alla sua cattura e alla sua esecuzione e per questo venne addirittura girato un filmato e lo stesso Lucchino Visconti chiese di poter essere il regista di quel filmato che poi venne diffuso come prova. Gli altri esponenti della banda ebbero destini diversi alcuni vennero catturati molti vennero giustiziati tra l'altro spesso dai partigiani proprio tra maggio e giugno del 1945 altri fecero alcuni anni di galera finendo poi liberati altri non vennero mai catturati o accusati delle loro colpe. A due andò decisamente peggio. Osvaldo Valente e Luisa Ferida infatti di fronte all'avanzata delle forze partigiane degli alleati il 20 aprile del 45 si erano consegnati alle brigate Pasubio. Sul loro destino avrebbe deciso uno dei comandanti di quei partigiani cioè proprio Sandro Pertini il quale nonostante molti chiedessero l'amnistia almeno per la ferida decise che i due dovevano morire nella notte tra il 29 e il 30 maggio del 1945 i due per ordine di Pertini vennero fucilati a distanza di anni si riconobbe che quell'ordine era probabilmente sbagliato se Valente infatti aveva delle colpe abbastanza riconoscibili le accuse alla ferida erano decisamente più circostanziali e come vi ho detto prima molto probabilmente molte delle accuse non erano riferite a lei quanto piuttosto alla Marchi che si spacciava per lei su questa storia peraltro è poi stato anche girato recentemente un film con Zingaretti che fa proprio Osvaldo Valenti termina così questa questa storia con la morte di alcuni dei suoi principali protagonisti con la salvezza di altri ma con una sensazione di avere a mio parere letteralmente solo sfiorato un'oscurità che probabilmente non potremmo mai conoscere per una sevizia che conosciamo per un uomo che è sopravvissuto per raccontarlo un uomo una donna purtroppo ce ne sono decine di altri che non sono riusciti a raccontarlo qualcuno perché è scioccato da quello che era avvenuto la maggior parte purtroppo perché morti uccisi dalla stessa banda coke o uccisi in altre rappesaglie purtroppo questi sono eventi che andrebbero ricordati andrebbero raccontati non tanto per dire ha ragione una parte ha ragione l'altra perché io sono convinto che violenze ci siano state da entrambe le parti anche se io l'ho sempre detto sono convinto che una parte lottasse per la libertà l'altra lottava per coloro che mettevano gli ebrei sui treni ma questa ripeto è una visione mia però credo che siano cose che vadano raccontate per ricordarci sempre in quali oscuri antri possa finire l'umanità e dato che ci continuiamo a finire perché come dicevo prima le stesse violenze che vi ho raccontato le abbiamo viste fare non tanti anni fa nel carcere di Abu Ghraib in Iraq ma non fatto dagli iracheni ma fatti da noi occidentali sarebbe bene ricordarsi che è molto facile passare da essere uno studente di giurisprudenza a essere un torturatore come Pietro Koch e credo che queste storie vadano raccontate e ricordate per cercare ma mi rendo conto che sia una cosa impossibile di non farle succedere mai più almeno proviamoci io mi fermo qua ringrazio tantissimo Ilaria per il materiale che mi ha fornito per aver messo insieme i pezzi di questa storia che vi dico partiva in realtà dalla volontà di raccontare queste ville tristi tra l'altro Villa Fossati dalla fine della guerra non venne più ripresa dalla famiglia che l'aveva costruita probabilmente proprio per la nomea che si era creata ed è attualmente un convento forse un modo per espiare le colpe che sono avvenute all'interno peraltro il nome Villa Tristi è in realtà un nome diciamo un po' comunitario a molte di queste case che erano utilizzate da queste bande che torturavano e violentavano durante il regime repubblicano fascista ve lo lascio così magari in futuro dedicheremo una pillola alle altre io mi fermo qua e vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche talvolta terribili talvolta che non sembrano quasi reali che non possano essere avvenute e invece sono avvenute come ho detto prima neanche 80 anni fa in Italia qui da noi a Roma a Firenze e a Milano ma in tutte le altre città sono avvenute di simili storie che meriterebbero di essere raccontate in film e in libri per essere trasmesse e conosciute io intanto cerco di raccontarle in questa pillola se volete curiosare tra alcune di queste storie alcune anche un pochettino più leggere più piacevoli qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto in questo 2021 con altre pillole sperando che la voce mi torni come era una volta a presto ciao ciao ciao